Sicuramente è una bellissima realtà, sono molto contento di essere venuto qua. Quello che mi ha colpito fin da subito è stato il senso di appartenenza, di essere tutti una famiglia unica e penso sia una cosa bellissima. Un'avventura nuova, quali sono i tuoi obiettivi? Sarà la mia prima stagione tra i professionisti, tra i grandi campioni. Sarà dura, però penso solo a migliorare giorno dopo giorno e cercare di arrivare in alto. Hai l'opportunità quest'anno di lavorare con un tecnico in grado di valorizzare molto i giovani? Penso sicuramente che mi possa dare una mano sul livello del gioco, sul livello di personalità, su tutti i punti di vista. Penso sia un tecnico che crede molto nei giovani, questo è una cosa bellissima, dato che pochi tecnici hanno il coraggio come lui di buttarli nella mischia e di avere il coraggio di provare a farli sbagliare. Di tutto penso che sia una grande persona, un ottimo misto. La prossima sarà una stagione davvero densa di impegni. Serie A, Team Cup, l'esperienza in Europa, quindi l'Europa League. Cosa ti aspetti dalla stagione che sta per cominciare? Per me è tutto nuovo, sarà sicuramente una stagione emozionante. Di sicuro cercheremo di arrivare in fondo in tutte le competizioni e dare sempre il massimo.